dai ci sei? dai andiamo dai dai fa niente fa niente Leo quelle che sono andate sono andate concentrati sulla prossima eh ci sei? andiamo va bene va bene dai Tommy eh sei? buono guarda come l'hai attaccata anche bene così a meno passi di là dello stile stai facendo il furbo lo so che lo fai per quello eh però è giusto attaccarla eh ma lo so che lo fai per quello eh sono andato prima di te eh ci sei Tommy? andiamo oh dove te l'ho messa? va bene guardati guardati però sei oltre il palo tutta la porta coperta eh va bene eh con due mani ci sei arrivato con due mani e poi non la tieni dai eh buono bravo dai dai silenzio sei? dai andiamo dai 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 Tommy dai Tommy va bene non ti preoccupare pensa quella dopo eh questa è brutta eh non ho visto bene i piedi ma hai fatto una roba strana eh devi aspettarla perché parti prima invece è la palla che comanda buono se aspetti e tieni gli occhi sul pallone eh se hai lento devi aspettare vedi sei andato un quarto d'ora prima eh imparate a guardare la palla calcolare giusto i tempi eh visto questa è la veloce invece eh vabbè ci sta eh poi è bagnata se prende bene lo scivolamento sei? dai buono bravo allora usiamo sempre questa sei? andiamo va bene paratona eh però con due mani andiamoci eh sei? dai Tommy giù va bene non me ne frega niente lo stacolino va bene eh va bene va bene va bene non ti preoccupare va benissimo l'importante è fare passo spinta fatto bene eh ci sei? dai andiamo secondo me dopo me lo riguardo dopo me lo riguardo non so se hai fatto giusto il passo dopo me lo riguardo ci sei Tommy? dai andiamo con due mani cos'è quella roba brutta comunque vabbè se la le spingi giusto così che va lontano eh con due mani si c'hai ragione vieni vieni Tommy eh sei? andiamo buono ciao 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 ciao